Stasera ci sarà una rifinitura a porte chiuse che servirà più che altro a verificare lo stato di alcuni calciatori. Difficilmente recupererà Tunkara. In ultima analisi potrebbe partire dalla panchina. Meno critica la situazione per quanto riguarda Modesto. Il suo acciacco non è poi così allarmante e non ci stupiremmo affatto se dovesse essere in campo sin dal primo minuto. Per la fase offensiva potrebbero iniziare gli stessi di Vercelli con Ricci pienamente recuperato. A meno di scelte diverse. Del resto una prerogativa di Juric è quella di utilizzare tutti indistintamente per l'incondizionata fiducia che nutre nei confronti dei suoi ragazzi. A centrocampo i due che hanno fatto bene finora, Salzano e Capezzi, da quello che si è capito dovrebbero partire titolari. Con Capezzi della sua condizione ne abbiamo parlato in sala stampa nel consueto incontro pre-partita. Leonardo Capezzi dopo la splendida vittoria di Vercelli, tra l'altro la prima in trasferta dopo tanti mesi per il Crotone, arriva a un'altra squadra abbastanza quotata per fare un campionato importante, la Salernitana. È un big match, è uno scontro da vertice, è un po' strano dirlo ma è così. Sì, sicuramente come tutte le altre sarà una grande partita contro una grande squadra, per cui la stiamo preparando bene in settimana e spero che vada tutto bene e che facciamo il risultato. Ecco, cosa avete preparato nello specifico? Perché la Salernitana ha uomini temibili davanti, uno su tutti i gabionette, noi lo conosciamo bene qui a Crotone, sicuramente potrà dare del filo da torcere, vi siete concentrati anche su questo? No, ci stiamo allenando come abbiamo fatto sempre, pensando a noi, al nostro gioco e poi ora in questi giorni, magari domani, prepariamo qualcosa meglio sull'avversario. Però il primo pensiero va a noi, che dobbiamo far noi la prestazione, quella è la cosa più importante. Prestazioni che stanno arrivando al di là dei vari moduli che il mister ha cambiato, poi il mister Juri ci parla sempre dell'atteggiamento che è quello che conta. A Vercelli avete avuto appunto un atteggiamento abbastanza spavaldo, siete riusciti a soffrire poco e gestire la partita nel secondo tempo. Ecco, state acquisendo sempre consapevolezza nei vostri mezzi, sempre di più? Sì, può passare del tempo, ci conosciamo ancora meglio, capiamo ancora meglio quello che chiede il mister e ogni sabato, sia in casa che fuori, andiamo là per fare la partita, per pressare alto e per portare a casa i punti. Ti stai trovando a tuo agio nel ruolo di interno di centrocampo a due, è quello che hai sempre fatto oppure preferiresti giocare in una posizione diversa? No, 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 mi sto trovando bene, è quello che ho sempre fatto e per cui mi sto trovando molto bene. Comunque, per terminare, anche Verdi si scenderà in campo a cercare la vittoria, ovviamente? Sicuramente, quello sì, quello che facciamo ogni volta. Cosa vi aspettate dalla Salernitana? Nel senso che vi aspettate una squadra aggressiva o che aspetterà le vostre giocate per poi ripartire? No, sicuramente sarà una squadra aggressiva, come ha dimostrato in questo inizio di campionato, una squadra che ha giocatori importanti, per cui dobbiamo partire forti anche noi, stare aggressivi, insomma, sarà una bella partita sicuramente. In bocca al lupo? Grazie. Anche noi ci aspettiamo di assistere ad una gran bella partita, le squadre in campo potrebbero garantirla, visto la classifica e gli elementi di cui dispongono. La posta in palio è importante perché potrebbe proiettarci in testa la classifica, anche solo per una notte. Sarebbe un sogno di una notte di inizio autunno, caro Shakespeare, varrebbe più di una notte di mezz'estate, perché dalle nostre parti fa ancora caldo. Grazie. Grazie.